Bene, bene, finalmente avete riconosciuto Cori alla Casa Bianca per DS, anche se credo che il titolo corretto sia quello inglese, non penso che il gioco sia mai uscito in Italia. Comunque se dobbiamo parlare di serie, la risposta più sbagliata di tutte non può che essere poro sotto un tetto. Geniale! Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche quando non ci sono rumor sul Nintendo Direct. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, perché torneremo a parlare di Joy-Con Drift, discuteremo dei nuovi dettagli emersi su Starfield e sul futuro di Bethesda, e vedremo anche l'attesissimo ritorno di un titolo completamente folle. Prima di iniziare però vi invito a mettervi in marcia verso la conquista nonviolenta di internet.com, la fondazione del poro verso. Non avete tutto questo tempo, vi ricordo che il P-Day sarà il 29 giugno. Nell'attesa preparatevi al meglio, lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. I link li trovate tutti quanti in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Bene, partiamo con qualche notizia al volo. Ieri ci siamo salutati con la promessa che oggi avremmo discusso dell'extended showcase di Microsoft e della stream celebrativa per i 15 anni del franchise di Assassin's Creed. Però, che dire, si è trattato di due eventi abbastanza sottotono, che hanno riservato poche sorprese. Per la stream di Xbox, in fondo me lo aspettavo. E proprio come è accaduto l'anno scorso, si è trattato semplicemente di un approfondimento di quanto mostrato durante l'evento principale avvenuto domenica scorsa. Ci sono state delle novità, ma si è trattato di annunci minori. In descrizione vi lascio comunque il link alla pagina, che riassume tutto quanto quello che si è visto in questi 90 minuti di chiacchierate. La stream celebrativa per i 15 anni di Assassin's Creed a sua volta ha riservato ben poche sorprese, anche se non tutte da buttare. Da segnalare infatti l'arrivo di nuovi contenuti gratuiti per Valhalla, che nel corso dell'anno espanderanno ulteriormente il gioco base e porteranno finalmente a conclusione la questline di Eivor. E poi anche la patch next-gen di Origins, che porta il framerate a 60 fps. Dal 16 al 20 giugno sarà possibile giocare gratuitamente a Origins, un'occasione perfetta per provare questa nuova versione. La cosa più interessante però è un teaser. Infatti apre il sito ufficiale pensato per celebrare i 15 anni della serie, che presenta al suo interno una roadmap di quello che accadrà nei prossimi mesi e a quanto pare a settembre ci sarà un evento dedicato al futuro del brand. Aspettatevi di vedere annunciato il nuovo capitolo di Assassin's Creed. Tempo di rimpolpare il Game Pass, non trovate? Questa volta è il turno di FIFA 22, un titolo sicuramente di grande richiamo. Il gioco entrerà a far parte della playlist di EA Play il 23 giugno la settimana prossima, il che significa che diventerà disponibile anche agli abbonati al Game Pass in versione Ultimate. Mentre c'è da fare una piccola precisazione per quanto riguarda gli upgrade gratuiti per le versioni next-gen dei Resident Evil, in particolare di quella di Resident Evil 7. Che infatti in possesso di Resident Evil 7 su PlayStation 5, tramite il regalo di benvenuto della PlayStation Collection, beh non potrà usufruire di questa offerta. La patch sarà disponibile solo a chi avrà acquistato il gioco. E poi molto rapidamente, proprio in questi momenti stanno uscendo le recensioni di Shredder's Revenge e porca miseria i pareri sono tutti stra-positivi, anche se qui da noi ho notato un'accoglienza leggermente più freddina. Io da amante del genere non sto più nella pelle e non so se riesco ad aspettare la versione fisica. Voi poracci, attenderete luglio oppure andrete di day one? Ma bene, passiamo alle notizie del giorno e purtroppo si torna a parlare di Joy-Con Drift, ovvero di quello che possiamo considerare, senza alcuna ombra di dubbio, il più grande difetto di Nintendo Switch. Avete presente, no, gli analogici che si muovono da soli e c'è un'altissima probabilità che anche voi, almeno una volta, abbiate riscontrato questo difetto. E purtroppo non è che possiamo dire di aver fatto dei passi in avanti rispetto al 2017, anzi, il Drift continua a essere una criticità irrisolta e Nintendo non sembra intenzionata in nessun modo a risolvere la situazione. Prendete per esempio questo sondaggio condotto da Witch, un'associazione di consumatori con base nel Regno Unito. Gli studi hanno portato alla conclusione che su circa 1000 utenti Nintendo Switch, bene il 40% ha riscontrato almeno una volta problemi con il Drift, ma di questi solo il 73% si è rivolta all'assistenza clienti. Una situazione a dir poco paradossale di cui Nintendo ancora non si è presa carico. Secondo un rappresentante di Witch, Nintendo dovrebbe immediatamente aprire delle indagini sulla causa di questo problema e dovrebbe soprattutto garantire un'assistenza gratuita a tutti gli utenti che manifestano il Drift sui controller e migliorare così il suo sistema di assistenza clienti. Ma è incredibile come l'azienda continui a fare finta di nulla. Se in America ormai sono partite le class action e Nintendo si è limitata a rispondere con un ci stiamo lavorando, la risposta a questo sondaggio in UK è stata disarmante. Sky.com riporta che un rappresentante di Nintendo avrebbe commentato così la notizia. La percentuale di controller Joy-Con che sono stati segnalati con malfunzionamenti agli stick analogici è molto bassa e dal canto nostro abbiamo apportato continui miglioramenti agli stick dei Joy-Con sin dal loro lancio nel 2017. Insomma per Nintendo UK tutto regolare. Il Drift non esiste ma se anche fosse si tratterebbe comunque di una minuscola e accettabile percentuale di utenti che sono invitati a rivolgersi all'assistenza clienti. Purtroppo l'unica speranza che abbiamo a questo punto è incrociare le dita che con la prossima generazione di hardware Nintendo non si ripresenti lo stesso problema. Ma ditemi sono curioso, voi sulla OLED avete riscontrato il Drift? La scorsa domenica è stato finalmente svelato il gameplay di Starfield, uno dei progetti più attesi per il 2022, anzi no per il 2023. L'opera di Bethesda si è dimostrata incredibilmente ambiziosa e le parole di Todd Howard non hanno fatto altro che incuriosire ancora di più i giocatori. Ora però grazie a un'intervista fatta a Howard alla parte di IGN possiamo avere un quadro molto più chiaro sul gameplay del titolo. Anche in questo caso troverete in descrizione il link al portale di IGN che racchiude in tanti diversi articoli tutti gli argomenti trattati con Howard. Vi consiglio di leggerli tutti quanti, sono anche tradotti in italiano perché restituiscono un quadro molto più sensato sulle dimensioni del titolo. Le cose da mettere assolutamente in evidenza per me sono le seguenti. Il gioco presenterà 4 città esplorabili in totale e una di queste, New Atlantis, sarà la più grande in assoluto mai vista in un gioco Bethesda. Per mettere in prospettiva è la stessa IGN ricordare che Skyrim aveva un totale di 5 città mentre Fallout 4 solo 3. L'esplorazione spaziale sarà separata dalla superficie dei pianeti e non sarà possibile atterrare direttamente su un corpo celeste senza soluzione di continuità, proprio come accade in No Man's Sky per esempio. In generale Todd Howard ha dichiarato che la filosofia di design è stata quella di accontentare qualsiasi possibile richiesta del giocatore. Per fare ciò, ad esempio, ed avere mille pianete esplorabili, Starfield farà pesantemente affidamento su contenuti generati proceduralmente, più di quanto visto in precedenza su altri GDR, ma si tratta in realtà di una tecnologia già sfruttata sin dai tempi di Daggerfall. Ma non per questo sarà esclusa la possibilità di vivere un'avventura molto più lineare e guidata, con una main quest che durerà intorno alle 30-40 ore di gioco, circa il 20% in più rispetto ai precedenti sforzi targati Bethesda. Insomma, io sono sempre più curioso di vedere come uscirà fuori questo Starfield. Ci sono sì tante ambizioni, ma al tempo stesso conosciamo tutti i limiti intrinsechi al game design targato Bethesda. Però vi lascio con una cosa che mi ha fatto molto sorridere. Todd Howard ha confermato che Fallout 5 si farà. Peccato solo che in linea di produzione arriverà solo dopo Starfield e Elder Scrolls 6, che è ancora in fase di pre-produzione. Quindi, le parole di Howard prendetele sempre per quello che sono. E mentre aspettiamo l'arrivo di Fallout, direi che avremo tutto il tempo del mondo per esplorare con tranquillità l'intera galassia. E poracci ho deciso di chiudere la puntata di oggi con una notizia che per me è una vera bomba. Molto probabilmente, e anche molto presto, potremo assistere al ritorno di uno dei giochi più folli di sempre. Lollipop Chainsaw. Quando si parla di Suda51 è facile immaginarsi una produzione dai toni sopra le righe. Ma credetemi, quando vi dico che probabilmente Lollipop Chainsaw è il gioco esteticamente più folle e malato partorito dalla mente del buon Goichi Suda. Penso che le immagini del trailer parlino abbastanza da sole. Vi dico però che molto spesso ho pensato di metterlo in apertura in solo risposte sbagliate, ma... Non lo so, è difficile trovare una scena che non sia troppo greve da mettere a inizio video. Detto questo, si tratta di un gioco che in realtà non è mai stato ripubblicato. E la versione Xbox 360 non è retrocompatibile. Mentre l'edizione PlayStation 3 non compare neanche nel catalogo in streaming del nuovo Plus. E il gioco inoltre non è mai stato pubblicato su PC. Ora però, mentre Suda51 e James Gunn, codirettore del titolo, festeggiano insieme il decennale del gioco, Yashimi Yasuda, ovvero il produttore esecutivo di Lollipop Chainsaw e Killer Is Dead, nonché ex CEO del publisher dei due titoli, ha fondato una nuova casa di distribuzione, ovvero la Dragami Games. E con questo tweet ha comunicato che Lollipop Chainsaw tornerà grazie a Dragami Games. Per favore, rimanete sintonizzati. Quindi non sappiamo se si tratterà di un porting, una remaster o un remake, ma presto potremo nuovamente giocare a uno dei titoli più trash di sempre. E vi dirò, io non vedo l'ora. E voi, avete mai giocato a Lollipop Chainsaw? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a questa sera alle 22 sul sito Viola per una live a tema Mario Strikers, altrimenti a domani, come al solito con un nuovo video. Voi nel frattempo mi raccomando, fate bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Drift, Michele Chainsaw, ciao! Ehi, fermo, se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! E Poracci! E poracci!